Non ci posso credere che ti ho ucciso così Dicevo, quando si riesce a trovare Lost nei DLC È molto bello Quando non lagga è anche meglio Stiamo ad Heidi, che non si pronuncerà mai Heidi Ma allora non ci frega Questo tizio ha ucciso tutti, ma starà ancora all'inizio? Ah no, è là Come io non abbia preso danni E non lo so Ma come puoi pretendere di curarti, scusami? Ma dico bene, scusate Chi è? Vabbè, GG Arkesh, hello Eh, para questa Mi dispiace, ha voluto fare un Perry alla mia bomba Arkesh, questo lo conosciamo Era il tipo simpatico che usava tutti i fulmini Oh no, mi ha preso la R1 Sommaro Fantastico Fantastico Very close Ah, il muro mi ha vietato di vedere dove caspita fosse GG, GG Bello là, il set di Auron Auron, come cacchio si chiama Peccato che non ho avuto modo di registrare Perché ero andato a FK Sono tornato e c'era un tizio che mi stava rompendo l'equipaggiamento Ed era anche abbastanza bravo in PvP E ho avuto la meglio io Ero praticamente a metà HP Ma ho giocato da Dio e sono riuscito a batterlo Però non stavo registrando Ma sti cazzi Niente Ci siamo vendicati Oh Eh Succedono cose Mi piace che ha fatto l'attacco Ha fatto il plunging attack Mentre cadeva Andiamo in vaso slash Dei ganzeroses Let's go Oh shit Mi dispiace Slash Mi dispiace Non pensavo avrei potuto one shotarlo Hello Xander Let's go È la cosa di Pate È la lancia di Pate Nice Fancy footwork Ah Che succede? Wow Quel prediction GG Xander Bel plunging attack Che succede? Oh, no. Va bene Non ci posso credere Che ti ho ucciso così Non ci posso credere Che ti ho ucciso così Non ho mai fatto Una kill del genere Mai Fantastica Ciao Neck Bella Ah mi dispiace GG Peccato Quello era un colpo facile Da schivare GG Bella Ah speravo si curasse Oh Ha detto niente più Basta Ci rinuncio Tanto era davanti al falò Wow Ma se non ci fosse l'NPC Sarebbe meglio Dico bene Ma come Bullshit I call it Bullshit What the fuck Was that Backstab Bitch Ho vinto il trade Curati ancora Wow Non gli ho fatto un cazzo Sto giro No GG Se avessi lasciato andare il colpo Credo che sarebbe morta Non sono sicuro però Perché Non so se tu possa effettivamente Pariare quel colpo Senza prendere danni Può essere di sì Può essere di no Non lo so veramente Di nuovo lui Nostro amico ormai Peccato che non ci si veda un cacchio qua Ha GG Ciao 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 Ciao